Si concretizza sempre più il progetto di riqualificazione del CEF Pass di Caltanissette. Iniziano infatti i lavori nel campus con il completamento del nuovo ingresso da Viale Luigi Monaco dopo la realizzazione dell'impianto fognario, un passo che ha permesso di risolvere il problema degli allagamenti in caso di maltempo. La creazione del nuovo ingresso rientra nel più ampio e moderno progetto di riqualificazione, sia dal punto di vista funzionale che energetico. L'utilizzo dei materiali della tradizione costruttiva locale si precisa nel comunicato, come il basalto lavico, la calcarenite di sabucine e l'acciaio corten, insieme a una struttura di copertura a grande luce e all'impiego di alberature d'alto fusto coerenti con il paesaggio locale, sono state apprezzate dal comune e dalla soprintendenza, si legge, che insieme all'ASP di Caltanissette e il Genio Civile hanno approvato il progetto.